Ciao, mi chiamo Sara, ho 21 anni, vengo da Bergamo. Sono venuta qui alla clinica Pallaoro Medical Laser per sottopormi alla rinoplastica perché il mio naso non mi piace, mi ha sempre creato disagio e vorrei fosse proporzionato al mio viso. Ho conosciuto questa clinica tramite una mia amica che ha fatto dei ritocchini estetici e me ne ha parlato molto bene. Prima di fissare la visita mi sono documentata su internet e ho trovato delle ottime recensioni e le foto del prima e del dopo mi hanno lasciato sbalordita. Buongiorno, buongiorno. Sono quello che mi farà il naso stupendo. Mi fa un naso perfettamente delicato come io ho programmato, non avrà il colore. Oggi è il giorno dell'intervento, mi ha accompagnato mia mamma che è più agitata di me. Speriamo vada tutto bene, sono curiosa di vedere il risultato finale. Per una mamma l'agitazione c'è, però se questo la rende felice sono felicissima anch'io per lei. Grazie a tutti. 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 Ciao, sono passati sei mesi dall'intervento. Sono molto soddisfatta del risultato finale. Il mio naso mi piace moltissimo e mi fa sentire a mio agio con me stessa e con gli altri. Se dovessi tornare indietro lo rifarei. Non ho sentito dolore né durante l'intervento né dopo. I miei genitori e le mie amiche quando mi hanno visto mi hanno detto che sono cambiata tantissimo e che sono molto più bella. Quando ho tolto il tutore la prima volta mi sono emozionata perché sono veramente cambiata e sto molto meglio. Lo staff è molto professionale e gentile. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutti quanti perché mi sono trovata molto bene. E' meglio non ci ricordiamo neanche come ha detto Naro prima. Era bruttino. E' meglio così. Stupendo.